Buona giornata a tutti, intanto ringrazio Carmine Marinucci per l'invito, mi dispiace non essere live con voi. Ho inviato questo video perché ci tengo molto, ci tengo molto all'attività che Carmine svolge quotidianamente, l'attività che svolge l'Associazione di Calter, un'attività che va sulla formazione, va sulla didattica, va sulla cultura, sull'approfondimento di tematiche importanti per l'attualità e per il nostro futuro anche dei più giovani. Per questo motivo noi come Associazione Pia Social e come Fondazione Italia Digitale da sempre direi siamo al fianco di di Calter e di Calter è al fianco nostro per promuovere cultura, per promuovere conoscenza, perché oggi anche di fronte a una sfida grandissima che è quella dell'intelligenza artificiale ci troviamo a dover lavorare molto sulle competenze, sulla conoscenza e sulla possibilità per tutti di utilizzare il digitale, la tecnologia, l'innovazione al meglio. Per questo nei mesi scorsi e anche nel corso del recente Festival Digitale Popolare organizzato da Fondazione Italia Digitale a Torino abbiamo promosso Mind the Gap, 11 punti per l'Italia Digitale importanti per poter fare cultura, promozione della tecnologia, promozione della buona tecnologia direi io, perché poi gli strumenti non sono né buoni né cattivi, la differenza la fa come li utilizziamo e quindi la qualità di utilizzo. Su questo dobbiamo lavorare molto, fortunatamente esistono realtà come di Calter e dico anche Pia Social e Fondazione Italia Digitale, perché solo grazie al lavoro di tutti, delle istituzioni, delle aziende, appunto degli enti no profit, di chi anche tanti professionisti in tutta Italia fa cultura digitale, e solo con questo lavoro possiamo vincere la sfida di un digitale alla portata di tutti e soprattutto conosciuto e utilizzato al meglio da tutti. Chiudo ringraziandovi ancora e facendo gli auguri a Di Calter per i suoi dieci anni e dicendo anche, invitandovi già da ora perché siamo vicini, perché il 2025 sarà l'anno del decennale di Pia Social e anche della nostra testata giornalistica digitalepopolare.it e quindi diciamo che festeggiamo un po' tutti insieme e il miglior festeggiamento è raggiungere obiettivi e risultati di tanta attività che tutti insieme abbiamo fatto negli anni. Ancora grazie a tutti voi, grazie a Carmine, a presto e buon lavoro. Ciao!